questa è l'italia in cui viviamo cari ragazzi sono le 7 di venerdì mattina questa è la mia macchina la macchina un mese di vita e questo è quello che hanno fatto mi hanno portato via i fari hanno rotto il vetro hanno alzato qua hanno alzato qua hanno rotto la macchina e mi hanno portato via tutto tutto ormai non siamo più sicuri da nessuna parte questo è il parcheggio fuori da casa mia io abito la in quadra la mia macchina di fronte questa è la mia macchina la macchina un mese di vita e basta la sicurezza prima di tutto